A Stroncarlo sarebbe stata un overdose, questo quanto emerge dalle prime indiscrezioni sull'autopsia svolta dall'equip di medicina legale dell'Università di Siena sul corpo del 43enne tunisino trovato senza vita lo scorso giovedì all'interno del Parco del Pionta. Non ci sarebbe dunque alcun segno di violenza sul corpo dell'uomo e sarebbe invece confermato il decesso a causa dell'assunzione di dosi eccessive di sostanze stupefacenti. E' ancora presto invece per capire quale sostanza gli sia stata letale. Saranno infatti consegnati tra 60 giorni i risultati degli accertamenti e degli esami tossicologici. Il 43enne era stato ritrovato da alcuni operai al lavoro nel cantiere per la realizzazione della pista ciclabile riverso a terra senza vita lo scorso giovedì mattina. Accanto al cadavere era stata ritrovata anche una siringa. Adesso i militari dell'arma dei carabinieri che conducono le indagini coordinati dal PM Angela Masiello stanno verificando se la siringa trovata vicino al corpo dell'uomo sia stata utilizzata dallo stesso 43enne e quale sostanza contenesse. Il tunisino era una persona nota alle forze dell'ordine, aveva infatti i precedenti per spaccio e rapina.